Oggi siamo qui al Wernix Fest per incontrare i ragazzi e aiutarli a capire su quali competenze soft puntare per poter entrare nel mercato del lavoro. Questa esperienza con ADECCO ci ha insegnato cosa vuol dire un colloquio di gruppo, l'assessment, che è fondamentale al giorno d'oggi per entrare nel mondo del lavoro. Cerchiamo di aiutare i giovani a traquisire consapevolezza rispetto a chi sono e a quello che è il proprio talento.